Purtroppo facciamo le Daico, ve la accenno solamente perché è nuovissima, dove si fa l'investimento però c'è questo rubinetto che il network dice vabbè ti diamo 100.000 euro al mese e se fai ogni mese ti diamo altri 100.000 euro ma possiamo fermare oppure ti diamo 100.000 euro ogni volta che raggiungi un certo milestone, lo decide la DAO stessa, allora 100.000 euro facciamo il sito, altri 100.000 facciamo l'app eccetera eccetera. Stati di avanzamento. Alla fine sono concetti abbastanza basici, è teorico c'è già qualche Daico che sta provando ma siamo ragazzi è del 7 gennaio questa cosa di vitalik butari quindi futuro ecco, però è interessante perché sta cominciando fa capire che l'ecosistema sta cercando di autoregolarsi, non è venuta la consob a dirti no fate così perché verrà la consob, cioè verranno le blocheranno hanno bloccato le ICO in Cina, hanno bloccato le ICO in America per chi non è investitore istituzionale eccetera, un attimo, ultimo concetto, chi di voi ha investito in Airbnb? questo è bellissimo non avete investito in Airbnb? Perché no? Perché non avete comprato i stock di Airbnb? Perché non ci sono, non ci sono, non potete comprarle. Perché non potete comprarle? Perché? Allora, io quando ho visto Airbnb nel 2008 ero a Novo Sibirsk a meno 20 con sti russi tristi che programmavano il sito mio vedo Airbnb e dico cavolo, l'hanno fatto, l'hanno fatto, l'hanno fatto, l'hanno fatto bene, questi mi mangiano i risi in testa si dice da noi. Sì, vabbè, però, comunque era chiaro che Airbnb era il futuro, poi io sono entrato nella fase di denier, come si dice? Non sono madrelingua inglese, che proprio non parlo più italiano da un po', mi perdo. Negazione, dico no, non ce la fanno, mi sono detto Airbnb non ce la farà in Europa perché fa pagare le fie ai clienti, qui non esiste. E poi sono arrivati a noi. Ma se avessi potuto mettere mille euro in Airbnb, sapete quanto vale Airbnb adesso? 30 miliardi. Mille euro all'inizio, quanto sarebbe oggi? Datemi una mano, valeva forse un milione, perché all'inizio ti danno un milione per mille, per trenta, trenta mila volte. Quanto è? Trenta mila euro? Tre milioni. Per mille euro? Trenta milioni. Ora, se io avessi potuto investire mille euro in Airbnb nel 2008, da nuovo Sibesca, avrei preso trenta milioni oggi. Perché non me li ha fatti investire? La narrativa, ti dicono, è per proteggere l'investitore non istituzionale, perché siamo troppo scemi. Quella è la spiegazione. Ed è vero, perché in parte siamo scemi. Però i bond argentini ce ne hanno fatti comprare, però tutte le CDO ce ne hanno fatti comprare perché siamo scemi. Giusto? Allora, la mia interpretazione è che... Un'interpretazione è anche lì, ognuno la vede come vuole. Però a noi fanno entrare dopo nelle OPA quando ormai può andare su dal 10%, se proprio imbrocchi Apple, non so quanto Apple si è salita, però devi imbroccare Apple. Se no, tu entri quando praticamente dai soldi per quelli che si è tratti prima, che se ne escono. La ICO ti dice, no, tu entri all'inizio. Certo che c'è un rischio, certo che ci sono truffe, ma tanto ci sono anche di là. No, non è che siamo in un ecosistema dove se vai in banca sei tranquillo. Ti bastonano, ti fregano. La ICO è una reazione del network in realtà, perché non c'è Mr. ICO, non c'è ICO, INC, SPA, ok? Ti dice, tu puoi investire quanto vuoi, dove vuoi, sono fatti i tuoi. E nel 90% delle ICO perderemo soldi, perché dietro non c'è una struttura seria, eccetera. Però è estremamente interessante vedere che c'è qualcosa di questo tipo, perché potrà portare in qualche anno a un'alternativa. E per quello le bloccheranno, perché non vogliono che noi investiamo quando c'è ancora interesse, secondo me. Poi ognuno la vede come vuole, io la vedo così, ok? Si può discutere. Però è un'opportunità nuova, ecco. Possiamo pensare a una cosa molto grande, perché possiamo arrivare a prendere qualche milione.